Ciao a tutti, il prossimo settembre uscirà il mio doppio cd Naxos relativo all'integrale della musica per chitarra sola di Alexander Tasman, compositore franco-polacco. Tra le particolarità di questo doppio cd, la chitarra con cui ho registrato, una meravigliosa chitarra di Daniel Friedrich, la numero 101 del 1963, e si tratta della prima chitarra da concerto del famoso liutaio parigino. Inoltre, il cd include tre brani inediti mai pubblicati e mai registrati, recentemente riscoperti da Frédéric Zigante e Marianne Tasman. Infine, tutti i brani sono stati confrontati con i manoscritti originali per eliminare eventuali dubbi o d'omissioni delle precedenti edizioni. Buon ascolto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!